Un nuovo caso di positività al covid-19 è purtroppo una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 461 e il bilancio odierno dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, con il totale dei positivi che arriva a 3.283. Nel dettaglio sono 41, meno 5 rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 2, meno 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 335, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.444 sono i pazienti dimessi e guariti, più 13 rispetto a ieri. 2.337 sono le persone che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione, risultando negative a due test consecutive. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati dunque sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, e di 378 con una diminuzione di 13 unità rispetto a ieri. Sfondato è il tetto dei 100.000 tamponi, dall'inizio dell'emergenza infatti sono stati eseguiti complessivamente 100.918 test. Del totale dei casi positivi, 224 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1585 in provincia di Pescara, 630 in provincia di Teramo, 25 fuori regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza.